Via Pomeo si prepara a festeggiare il Carnevale, venerdì 24 febbraio, con spettacoli, musiche e rappresentazioni artistiche che dal pomeriggio animeranno una delle principali strade di Soccavo. A partire dalle 17, l'area si trasformerà in una lunga isola pedonale, con sfilate in maschera e tante iniziative che celebrano la tradizione popolare più antica fino alla cultura contemporanea. L'evento, gemellato con la cittadina vesuviana di Saviano, è promosso dal Centro Commerciale Naturale e Pomeo e si avvale del patrocinio del Comune e della nona Municipalità. Per noi è stato un grande onore avere gli amici di Saviano che hanno voluto darci questo supporto sia artistico ma soprattutto di consigli di come fare le cose. Che loro, come sapete, è un Carnevale antichissimo, quindi aver creduto che in effetti anche su una zona non centrale proprio della città ma soprattutto su una zona periferica poteva nascere qualche cosa di importante, come noi speriamo che diventi per il futuro, è stato veramente un piacere. Il Centro Commerciale Naturale e Pomeo, con tutti i suoi associati, vuole dare un po' alla cittadinanza che via Pomeo è viva. Non è vero che quello che succede può succedere dappertutto, per cui la gente deve stare tranquilla. Soccavo in questo momento rappresenta una delle emergenze della città, Corrione Traiano, dove abbiamo grandissima attenzione, abbiamo anche portato di recente l'illuminare. Stiamo cercando di avvicinare la periferia al centro della città e soprattutto vogliamo far sì che all'interno delle periferie ci siano sempre più iniziative che possano coinvolgere i cittadini e soprattutto tutti quei luoghi che di solito non vengono raggiunti dai giornali per fatti belli ma soltanto per fatti di cronaca.